Ha mancato lo svincolo di Piona e dopo essersi accorto dell'errore si è fermato con l'auto nella piazzola di sosta, subito dopo la rampa di uscita, atteso qualche minuto e ha fatto inversione a U, nel mezzo della superstrada 36, mentre sfrecciavano le auto. Il video, ripreso da un ponte sopra la statale, è stato postato su Facebook in un gruppo di colico. È successo ancora l'ennesimo episodio di auto in contromano e anche in questo caso non si è trattato di distrazione e orrore, ma di una scelta precisa dell'automobilista che solo per un soffio ha evitato un frontale. È accaduto nel pomeriggio di ieri all'imbrunire in direzione nord lungo la trafficata arteria. La persona al volante si accorge solo all'ultimo dell'uscita di Piona, invece di proseguire fino allo svincolo successivo, accosta nella piazzola di servizio, inverte la marcia, percorre alcuni metri contromano, rasenta lo spartitraffico a bordo carreggiata, mentre altre vetture che procedono nel verso corretto gli sfrecciano accanto. Quindi si infila nello svincolo quello che aveva saltato e se ne va. A giugno era scattato l'intervento della safety car della polizia stradale per un'auto contromano lungo la carreggiata a sud, a Mandello. Lo scorso anno dieci automobilisti si sono visti ritirare la patente per guida in contromano proprio lungo la statale 36.